Giulia nasce nel 1474, in un giorno e in un mese sconosciuti. Anche sul luogo di nascita non v'è certezza. Secondo alcuni sarebbe Canino, dove è già nato il fratello maggiore Alessandro. Secondo altri la figlia di Pierluigi Farnese e Giovanella Caetani, sarebbe nata a Capodimonte, sulle ribe del lago di Bolsena. Sia Canino che Capodimonte si trovano nella Tuscia, quella vasta zona che separa Viterbo dalla costa del Mar Firreno. È qui che i Farnese sono nati e dove ancora oggi esiste un paese che porta il loro nome. Ma chi ha dato il nome a chi? Gli studi più accreditati tendono a dare a questa famiglia origini longobarde. Non a caso le due principali ipotesi che si fanno sulle radici della parola Farnese fanno ricorso a vocaboli longobardi. Fara, cioè cittadella fortificata, o Farnia, cioè una varietà di quercia tipica di questa zona ad ovest del lago di Bolsena. Poco dopo l'anno 1000, i Farnese iniziano ad affermarsi ad Orvieto e poi in Toscana. Sono capi politici, valorosi militari e uomini di chiesa. È il vescovo Guido Farnese, ad esempio, a promuovere la costruzione del celebre uomo di Orvieto nel 1290. I Farnese compiono poi una scelta di campo che resterà coerente per secoli. Nella lunga lotta tra impero e papato, tra Ghibellini filoimperiali e Guelfi filopapali, i Farnese si schierano con la spada e col cuore a fianco di Roma. Una scelta che portò a grandi ricompense a cominciare dalla seconda metà del 300. Il primo feudo fu Valentano, poi seguirono molte altre località della zona, Marta, Latera, Gradoli, Canina, Farnese, Castelo, Capodimonte. A metà del 400 è Ranuccio III a guidare la famiglia. Sull'isola bisentina, al centro del lago di Bolsena, sorge una chiesa che dovrà ospitare le tombe di tutti i Farnese a cominciare dallo stesso Ranuccio. Uno degli ultimi segreti di Giulia, come vedremo, è proprio legato a questa isola e alle sue tombe. Ma Ranuccio non pensa solo al mondo oltreterreno. Con una corta politica di matrimoni, imposta le ulteriori ascese sociali di una famiglia decisa a farsi largo a Roma, alla corte dei papi. Non è un caso, quindi, che sempre più spesso i Farnese si sposano con famiglie patrizie dai nomi altisonanti e influenti in Vaticano. Colonna, Sabelli, Caetani, Orsini. Soprattutto con quest'ultima famiglia, gli incruci, sono così numerosi da aver lasciato segni in vari castelli dove rose e gigli si intrecciano di continuo. Ma non ci sono solo gli Orsini. Ad esempio, il secondo genito di Ranuccio, Pierluigi, sposa a Giovannella, una Caetani, famiglia da cui erano usciti due papi, Gerasio II nel 1118 e il più noto Bonifacio VIII nel 1294. Dal matrimonio nascono cinque figli, tra cui Alessandro e Giulia. è suo Alessandro che punta la famiglia e sarà Giulia, la cui bellezza è già straordinaria, ad aiutare il fratello a farsi largo alla corte papale. Giulia Farnese in realtà è sempre stata nella sua vita una ragazza generosa, mite, arrendevole, disponibile, soprattutto disponibile ai bisogni della famiglia, all'interesse della famiglia. Quando i giovani Farnese sbarcano a Roma, sul trono di Pietro siede il genovese Innocenzo VIII, Giovanni Battista Cibo. Innocenzo VIII deve la sua nomina a pontefice all'appoggio di due influenti cardinali che gli succederanno negli anni a seguire, il savonese Giuliano della Rovere e lo spagnolo Rodrigo Borgia, che in cambio del suo appoggio viene confermato vicecancelliere della Chiesa. Una carica ricevuta dallo zio Papa Callisto III nel 1456. e che terrà per ben 35 anni. Il suo palazzo romano, costruito nel 1462 nel quartiere Parione, era tra i più belli dell'epoca e ancora oggi è noto come il palazzo della cancelleria vecchia. Tra queste mura, cardinal Rodrigo Borgia costruì, oltre alla sua carriera politica, anche la sua fama di uomo dedito ai piaceri. Rodrigo ama, riamato, le donne. Ne ha moltissime e da loro ha numerosi figli. È in vicolo del Gallo, in una casa d'angolo a poche centinaia di metri dal suo palazzo, che abitava Vannozza Cattani, madre dei suoi figli più famosi, Juan, Cesare e Lucrezia, nata nel 1480 proprio tra le mura di questa casa. Vannozza Cattani è una delle due donne da sempre associate a Rodrigo Borgia. La seconda fa il suo ingresso nella vita del futuro papa nella primavera del 1489. Lui ha già 58 anni, lei solo 15. È Giulia Farnese. Abbiamo una descrizione certa di Giulia attraverso una lettera che scrisse un contigiano dei Borgia a Cesare Borgia nel 1494, esattamente l'11 luglio, in occasione del matrimonio di Lucrezia Borgia, quando sia Giulia che Lucrezia erano alla corte di Pesaro. Viene descritta da Jacopo Dragazio come una donna da colorito bruno, occhi neri e volto rotondo. Le strade di Giulia Farnese e di Rodrigo Borgia sono destinate a incrociarsi nel palazzo della cancelleria, da quando Giovanella Caetani, rimasta vedova, decide di confermare il matrimonio già combinato dal marito tra la figlia Giulia e Orsino Orsini. Orsino, brutto, alto, magrissimo, privo di un occhio perso in un incidente di caccia, ha 18 anni ed è figlio di Cosimo Ludovico Orsini e di una donna molto chiacchierata e intrigante, Adriana Mila, cugina di Rodrigo Borgia. È il 21 maggio 1489. Il matrimonio è straordinario per molti aspetti e non meno straordinari saranno i suoi effetti, a cominciare dal menage familiare. Gli sposi si stabiliscono nel castello Orsini di Bassanello, oggi Vasanello, ma da subito Giulia inizia sempre più frequenti viaggi a Roma. A Roma la ragazza è ospite della suocera Adriana Mila presso Palazzo Orsini, in via di Monte Giordano, dove vive anche una bambina di nove anni, figlia di Cardinal Rodrigo, Lucrezia. Giulia era particolarmente preferita, era particolarmente apprezzata da Adriana, perché era la più vecchia, aveva 5 anni più di Lucrezia. Lucrezia era considerata una bambina, Giulia era considerata già una signorinetta e poteva collaborare con la matrigna, con la buona madre, si diceva allora, forse si dice un po' anche adesso, per accogliere gli ospiti, che erano monsignori, ricchi prelati e ogni tanto c'era una persona più importante delle altre, Rodrigo Borgia, il futuro Alessandro VI. Tutte le premesse sarebbero state che Lucrezia Borgia e Giulia Farnese si considerassero delle sorelle e considerassero Adriana De Mila una mamma, una comune mamma. In realtà questo non avveniva. Mentre Lucrezia chiamava Adriana De Mila madre, chiamava invece Giulia zia, perché Giulia era una ragazza precoce, era già una signorina, era già una persona che faceva la sua gestione. È opinione corrente tra gli storici che Giulia sia diventata l'amante di Rodrigo Borgia poco dopo il suo matrimonio. La relazione diventa subito di dominio pubblico senza creare imbarazzo ai protagonisti, al punto che quando Rodrigo viene nominato Papa, la situazione non muta in nulla tranne che in una cosa. Rodrigo Borgia è diventato Papa Alessandro VI. In questo momento Giulia temeva di essere messa da parte. Come faccio io a essere la concubina del Papa? Come faccio io a essere la preferita di un Papa, di un cardinale? Posso anche esserla, ma del Papa no. A togliere questo imbarazzo è subentrato proprio Alessandro Borgia. che ha preso le persone, le ha tolte dal palazzo Orsini e li ha messe in un nuovo palazzo che era a fianco dell'allora Basilica di San Pietro, dove adesso c'è la sede del Santo Uffizio ed era il palazzo di Santa Maria in Portico, in quanto era sede, era l'alloggiamento del cardinale di San Zeno in Portico, un cardinale veneziano, che è stato gentilmente preso e fatto accomodare fuori. Con l'elezione di Papa Borgia l'11 agosto 1492, si apre uno dei periodi più bui per la Chiesa, ma anche per l'Italia. Lorenzo De Medici, grande arbitro degli equilibri tra gli stati italiani, è morto da pochi mesi, mentre Cristoforo Colombo è già partito da qualche giorno verso quelle che crede le Indie. Il nuovo Papa decide di non chiamarsi Callisto, come lo zio che l'aveva preceduto e nominato cardinale, ma Alessandro, come Alessandro Magno. Pochi giorni dopo, Ercole d'Este, signore di Ferrara, riceve una lettera dal suo ambasciatore a Milano, in cui è detto quello che tutti sanno circa l'elezione di Alessandro VI. Cum simonia et mille ribalderie et inoneste si è venduto il pontificato, che è cosa ignominosa et detestabile. Salito sul trono di Pietro, Alessandro VI inizia ad onorare i debiti contratti in conclave. Ad esempio il suo grande lettore, il cardinale Ascanio Sforza, riceve il palazzo della cancelleria. Ci sono poi da accontentare parenti e clienti, figli e amante. È questo il momento in cui Giulia deve farsi avanti per portare a termine la missione che i Farnese le hanno assegnato. E lei fa il suo dovere. La missione è compiuta un anno dopo. Nel concistoro del 20 settembre 1493, Alessandro VI nomina alcuni nuovi cardinali. Tra questi il figlio Cesare Borcia e Alessandro Farnese. Una nomina che tutti fanno risalire all'influenza sul pontefice della sorella Giulia. Una donna ancora giovanissima, ma già in grado di gestire il potere che la sua posizione le dava. La maggior parte di coloro che vogliono conseguire grazia dal Papa passa da quella porta. Osserverà un diplomatico dell'epoca accennando al portone del palazzo di Santa Maria in portico. Giulia comunque è una persona che bisogna darne atto. È uscita a poco più di vent'anni con un'esperienza, un bagaglio di esperienza culturale, ma anche di atrocità che lei ha visto intorno a sé e che l'hanno fatta maturare, ma nel senso per fortuna positivo. Il 30 novembre 1492 Giulia partorisce la sua unica figlia, Laura. Il parto avviene non a Bassanello, ma a Roma, a Palazzo Orsini e a Monte Giordano. Gli storici sono divisi sulla paternità della bambina, l'amante o il marito. Forse è quest'ultimo, stando ad alcune acide frasi di una lettera successiva del geloso Papa. Ad ogni modo, Laura fu considerata sempre una Orsini, né del resto la sua nascita segnò un momento di crisi nella relazione tra Giulia e il Papa. La crisi vera sarebbe arrivata meno di due anni più tardi, col terribile 1494. Partito per il suo secondo viaggio con equipaggio di circa 1200 uomini, tra cui ci sono il figlio Diego e il fratello Giacomo, Cristoforo Colombo, il 3 maggio 1494 scopre la Giamaica. Il 6 novembre del 1494 nasce Solimano I, il sultano turco che porterà l'impero ottomano ai massimi folgori, conquistandosi così il titolo di Magnifico. Per l'Italia il 1494 è un anno molto difficile all'inizio delle dominazioni straniere. Il 1494 fu innanzitutto un anno terribile per l'Italia. Lo storico Francesco Guicciardini, che visse in quel periodo, lo definirà anno infelicissimo, primo degli anni miserabili. E non sapeva, mentre scriveva, che l'inizio delle dominazioni straniere sull'Italia sarebbe finita solo oltre quattro secoli più tardi, con la vittoria italiana nella prima guerra mondiale. La scintilla di tutto fu la rivindicazione da parte del re di Francia, Carlo VIII, del trono del regno di Napoli, all'epoca retto da Alfonso II d'Aragona, alleato a Papa Borgia e alla Chiesa. Sollecitato da alcuni principi italiani, tra cui Ludovico il Moro, signore di Milano ed Ercole d'Este, signore di Ferrara, il re di Francia scende in Italia nel settembre 1494, seminando il panico anche a Roma, dove in contrasto con i Borgia lo sostengono alcuni importanti cardinali, come Giuliano della Rovere, futuro Giulio II. La vigilia e la discesa in Italia dei francesi segnò una grave, forse decisiva crisi tra Alessandro VI e la sua amante. Nel maggio 1494, Giulia, con Adriana Mila, era stata incaricata di accompagnare a Pesaro Lucrezia Borgia e il neomarito Giovanni Sforza, signore di quella città. Dopo poche settimane, il Papa inizia a scrivere a Giulia, invitandola a rientrare. Maxime adesso che vengono gli franciosi, per mare e per terra, noi scriveremo e manderemo più presto per voi, perché non ci pare bene che in simil tempo vi trovate a Pesaro, per la moltitudine della gente d'arme che si ritrovara in questo paese. Purtroppo per il Papa, subito dopo la sua lettera, ne arriva un'altra destinata a impressionare Giulia più delle soldataglie francesi. Si diffonde la notizia che il fratello di Giulia Farmese, Angelo, è in extremis, sta morendo. E Alessandro, l'altro fratello Alessandro, il futuro Papa Paolo III, chiede alla sorella di precipitarsi a Capodimonte per assistere le ultime ore di Angelo. Giulia, con la suocera Adriana Mila, si precipita da Pesaro a Capodimonte, sul lago di Bolsena, nella rocca di famiglia. Ma arriva tardi. Il fratello Angelo è già morto e a lei non resta che vivere i primi giorni di lutto con la cognata Lella Orsini e con gli altri due fratelli, il cardinale Alessandro e Gerolama. Il 22 ottobre 1494 Alessandro VI fuori di sé minaccia addirittura l'amante di Scomunica. Giulia ingrata et perfida, sub pena es comunicazioni late e sentenzie et maledictionis eterne te comandamo che non devi partire da Capodimonte o de Marta. Mi manco andare a Bassanello. Il braccio di ferro durò fino al novembre 1494. Quando Orsino, ottenuti altri privilegi, ha consentì che la moglie non lo raggiungesse a Bassanello ma si recasse pure a Roma. Cosa che la donna fece il 29 novembre. Ma lungo la strada, la carrozza con Giulia, la sorella e la suocera, scortate da 30 cavalieri mandati dal Papa, venne intercettata dai francesi e segregata nella rocca di Monte Fiascona. Fra lo schermo generale Alessandro VI cerca di intervenire, di mobilitare la sua diplomazia per far liberare le donne. Fintanto che riesce a intravolare delle trattative e a farle liberare con il riscatto di 3.000 Ducati. Quando Carlo VIII viene a sapere questo fatto, dice ma siete matti tutti? Dovevate chiedere 100, 1000, 100.000 Ducati perché il Papa, pur di liberare quelle sue due donne, sarebbe stato disponibile a impegnare non solo il patrimonio di un Petri, ma tutto il patrimonio del Vaticano. Il primo dicembre, a tardanotte, la carrozza di Giulia entra a Roma da Porta del Popolo ed è accolta trionfalmente in Piazza del Popolo, all'epoca più stretta di quella attuale, dal Papa in persona. Alessandro VI li accoglie, vestito da spagnolo, in abito da parata, in uno scenario decisamente da operetta. La prima notte, narrano le cronache, Giulia è ospitata nel Palazzo Papale. Con lo ritorno di Giulia a Roma sembra chiudersi la lunga crisi sentimentale. Invece, poco dopo, arriverà la fine definitiva del rapporto. A dare una mano decisiva al tutto ci fu l'arrivo il 26 dicembre 1494 di Carlo VIII a Roma. Il Papa si era chiuso con alcuni cardinali e le sue donne in Castel Sant'Angelo, mentre il sovrano francese si era installato in Palazzo San Marco, che oggi conosciamo come Palazzo Venezia. Mentre la diplomazia lavorava ad un accordo e i soldati francesi si abbandonavano al saccheggio, Cardinal Farnese organizzò la fuga della sorella da Roma. E così, mentre il 15 gennaio 1495, Alessandro VI e Carlo VIII firmano la pace, la bella Giulia prende di nascosto la strada di Bassanello, che sarebbe stata la sua residenza principale per i dieci anni successivi. Nel gennaio 1495 finisce probabilmente così il rapporto tra il Papa e Giulia dopo quasi sei anni. E Giulia può così iniziare una fase nuova della sua vita, col marito e con la figlia Laura nel castello di Bassanello. Nei venti anni di vita che le restano, Giulia conduce una vita abbastanza ritirata, prima nel castello di Bassanello, poi in quello poco distante di Carboniano, un feudo che Alessandro VI aveva concesso a Orsino Orsini in cambio della sua acquiescenza. Ed è da questi due castelli dell'Alto Lazio che ha preso le mosse la caccia al vero volto di Giulia. Una ricerca che appassiona da secoli gli storici dell'arte e che curiosamente ebbe inizio non alla morte di Giulia, ma dopo la scomparsa, molti anni dopo, di suo fratello Alessandro, che, nominato cardinale grazie a lei, nel 1534, era divenuto papa col nome di Paolo III. Sembra che di Giulia Farnese non sia rimasto alcun ritratto. Secondo alcuni, la mancanza di immagini sarebbe dovuta a una sorta di damnazio memoria, a cui Giulia è stata sottoposta per volere di Paolo III e del cardinale Alessandro Farnese. Altri invece si affanano a cercare il suo volto tra le varie dame e i velgini con leocorno, tanto amato dalla pittura rinascimentale. In questo labirinto di simboli e volti è difficile il conoscere quello di Giulia Farnese. È possibile solo fare delle ipotesi. Forse la donna inginocchiata nella trasfigurazione di Raffaello, o forse la Madonna nella piccola chiesa di Santa Maria della Valle, vicino a Carboniano, nel Viterbese. O forse è la donna con fascia littorio, allegoria della giustizia, sdraiata ai tiri della statua di Paolo III nel monumento funebre di quest'ultimo, inaugurato in Vaticano nel 1575. Anche un'altra immagine che raffigurava Giulia è sicuramente esistita ed è andata perduta, almeno in parte. Che ci sia stata, lo dice un passo di un celebre libro del Cinquecento, Le vite di Giorgio Vasari. Nel 1550 Vasari scriveva che nei palazzi vaticani, nell'appartamento che Papa Borgia si era fatto affrescare dal pinturicchio, c'era un ritratto di Giulia, un ritratto scandaloso. Indetto palazzo ritrasse sopra la porta di una camera la signora Giulia Farnese, nel volto di una nostra donna e nel medesimo quadro la testa di esso, Papa Alessandro che l'adora. Oggi quel ritratto non c'è negli appartamenti Borgia in Vaticano e questo ha indotto molti a sostenere che Vasari si sia sbagliato, magari tratto in inganno da qualcuno che voleva mettere in cattiva luce i Borgia e i Farnese. Ma altri prima di lui, tra cui il famoso scrittore francese Rabelais, ne avevano parlato. E del resto, una copia di quel dipinto è stata fatta molto tempo dopo. In questi anni, questi ultimi tempi, nel mercato antiquario è apparso proprio questo frammento di affresco del pinturicchio rappresentante il cosiddetto bambino Gesù delle mani, perché è il frammento dell'affresco scandaloso di Giulia Farnese dove evidentemente questo bambino ha le sue mani, le due mani della Madonna che lo accarezzano e il chiedino destro è posto sulla mano di Alessandro VI Borgia. Il frammento dell'opera di pinturicchio è stato riscoperto e valorizzato dallo storico dell'arte Franco Nucerelli e la mostra, che è stata allestita a Roma a Palazzo Venezia, ha rivelato come doveva presentarsi l'affresco scandaloso, di cui la parte più interessante, cioè la parte che raffigurerebbe Giulia nei panni della Madonna, sarebbe custodita tutt'oggi in una collezione privata. Ma per chi voglia vedere un ritratto attendibile di Giulia, c'è anche un altro modo. Basta recarsi in una delle più antiche chiese di Roma, la Basilica di Santa Pudenziana e aguzzare la vista. Forse, dopo circa 500 anni, la soluzione dell'enigma del vero volto di Giulia, la bella, è arrivata, grazie all'intuizione di una studiosa italiana, Patrizia Rosini. L'eccezionale scoperta di come questa antica chiesa romanica si colleghi alle vicende scandaluse di Giulia Farnese, dimostra come i fili della storia sappiano intrecciarsi in modo sorprendente e che per dipanarli non bisogna necessariamente cominciare dal principio. Intorno al 1580, il cardinale titolare di questa chiesa era il cardinal Enrico Caetani, bisnipote di Giovanella Caetani, madre di Giulia e di Alessandro Farnese. Cardinal Caetani era anche molto legato ad un altro cardinale, che si chiamava anche lui Alessandro Farnese, ma era il nipote diretto di quell'Alessandro che era divenuto cardinale grazie all'amore di Papa Borgia per sua sorella Giulia e che poi sarebbe stato Papa Paolo III. Nel 1584 Enrico Caetani ordina il restauro del grande mosaico absidale di Santa Pudenziana che risale al IV secolo d.C., danneggiato soprattutto nella parte destra. Raccogliendo probabilmente un suggerimento del cardinale Farnese, Caetani fa inserire quattro figure che solo apparentemente rappresentano quattro apostoli. Ho trovato invece una somiglianza nettissima che poteva essere il volto di Giulia con quel personaggio, il terzo discepolo inserito sulla parte destra del mosaico proprio perché in quel momento stavo cercando documenti, informazioni su Giulia Farnese e mi ricordavo di aver visto due immagini che riportavano al volto di Giulia. Una è quella della dama del liocorno inserita nell'affresco della sala del Perseo di Castel Sant'Angelo. L'altra è l'affresco che troviamo a Palazzo Farnese di Roma, sempre una dama con il liocorno. I volti avevano le stesse somiglianze, quindi il volto abbastanza rotondo, questi occhi leggermente a mandorla, la conciatura era simile e quindi mi sono chiesta come mai Giulia potesse essere raffigurata in questo personaggio. Ma riscontri ancora più sorprendenti interessano le altre figure volute dal Cardinal Caetani. Poi guardando le altre figure che le erano accanto mi sono resa conto che poteva esserci il fratello, il Cardinale Sandofarnese, il futuro Papa Paolo III. In effetti l'immagine corrispondeva quasi esattamente al ritratto che ne fece il Tiziano Veceglio, così come il personaggio che veniva subito dopo, che aveva la mano aperta davanti al suo petto, quella poteva essere la figura di Pierluigi Farnese, anche egli molto somigliante al ritratto di Tiziano Veceglio. Pierluigi Farnese, figlio primogenito di Papa Paolo III, in un certo senso contendeva alla zia Giulia il primato di Pecora Nera di famiglia. Violento, prepotente, depravato, era stato messo dal padre a capo del ducato di Piacenza e Parma nel 1545 e a Piacenza, dopo soli due anni di regno, era stato brutalmente assassinato da una congiura di palazzo. Il Papa sarebbe stato quindi raffigurato con accanto due dei suoi congiunti più stretti e più scandalosi. Ma chi potrebbe essere il quarto personaggio? E perché può essere stato accostato agli altri tre? Rimaneva l'ultima figura, quella accanto a Giulia, che guardava direttamente gli occhi del Cristo, l'unico che poteva farlo, e in effetti corrispondeva a San Francesco Saverio. Insieme a Sant'Ignazio dell'Eugliola, il fondatore della Compagnia di Gesù, istituita ufficialmente da Papa Paolo III Farnese nel 1540. All'epoca, nel 1588, quindi più o meno il periodo in cui erano terminati i lavori di rifacimento della chiesa, compreso il restauro del mosaico absitale, era in odore di santità. Quindi il personaggio che guarda direttamente il Cristo negli occhi potrebbe essere la figura del santo che doveva in qualche modo proteggere la famiglia Farnese, intercedere per loro. Ma se il mistero del vero volto di Giulia Farnese può aver trovato, sia pure dopo molti secoli, una soluzione, più difficile è sciogliere un altro enigma che la riguarda. Dove è stata sepolta? Al centro del lago di Bolsena, nel mausoleo di famiglia sull'isola bisentina? O nel centro di Roma, a pochi passi dal suo scandaloso amante? La morte colse Giulia a soli 50 anni, buona parte dei quali passati in modo molto differente da come avrebbe potuto far pensare il suo giovanile soggiorno alla corte dei Borgia. Fuggita da Roma nel 1495, era tornata a Bassanello da suo marito. La vita tra le mura del castello sarà fatta di colpo serena e così sarebbe continuata a lungo se un incidente, che fece molto discutere, non avesse portato all'improvvisa morte di Orsino, suo marito. Nell'estate del 1500, infatti, in piena notte, il soffitto della camera del castello dove il gentiluomo dormiva crollò uccidendo il solo Orsino. Negli anni successivi, Giulia fece di rado ritorno a Roma anche se sembra che abbia avuto occasione di incontrare, ma in pubblico, Papa Borgia. Morto questo nel 1503 e salito al soglio pontificio Giuliano della Rovere, a cerimo nemico dei Borgia, per Giulia l'atmosfera della capitale poteva diventare pesante. E invece, nel 1505, vi tornò ancora una volta per assistere alle nozze della figlia Laura con Niccolò della Rovere, un nipote di Papa Giulio II. A conferma di una certa indipendenza acquisita col tempo, si sposò nel 1509 con un nobile napoletano che era stato a lungo alla corte dei Borgia, Giovanni Capece, con cui andò a vivere in un feudo che il Borgia aveva donato al suo primo marito, Carboniano. È negli anni passati a Carboniano che, secondo molti, viene fuori la vera Giulia, non solo attenta amministratrice del suo feudo, ma anche donna decisa a vivere una vita diversa. Dimostrò di avere un'intelligenza, una bontà d'animo e in qualche modo si riscattò anche. La grande chiesa di Santa Maria della Concezione, evoluta nel 1522 da Giulia, simboleggia in qualche modo il nuovo stile di vita della donna, sicuramente più devota e pia ora di quando frequentava la corte papale. E qui, in attesa di restauro, fa Capolino un'altra raffigurazione della Madonna che ricorda moltissimo quella di Basanello. Anche all'interno del suo castello, Giulia volle attestare, secondo i costumi del tempo, cioè attraverso i simboli e gli affreschi, il suo cambiamento interiore. Non dimentichiamo che Giulia affresca quasi tutto il suo castello di Carboniano con le figure di donne e di unicorni. È la sua rappresentazione. Quindi non possiamo, secondo me, prescindere dalla figura di Giulia dalla raffigurazione della dama con l'unicorno. Giulia rappresentava questo. Lei, nella dama con l'unicorno, si vedeva rappresentata come la vergine che in qualche modo, l'unica persona che riusciva ad accogliere quest'unicorno che, leggendariamente, è sempre stato un animale inavvicinabile. Ma, nello stesso tempo, anche purificatore. Il momento per Giulia di rendere conto della sua vita arriva nel marzo 1524. Un improvviso malore la coglie a Carboniano, dove però non è possibile curarla a dovere. Viene così trasferita a Roma, dove il 14 marzo detta il proprio testamento. Pensa a tutto e a tutti, anche se non vedrà esaudite molte delle sue volontà. Lei ha cambiato la sua vita. Non è rimasta, non è morta come una cortigiana. È morta come una donna libera. E voleva rendere libere anche le altre donne, perché nel suo testamento i suoi lasciti sono quasi tutte per le donne che l'hanno circondata, per le sue cameriere, per le ragazze povere. Ha lasciato dei legati affinché queste ragazze potessero rimanere libere anche senza contrarre matrimonio. Ed era impensabile per l'epoca. Quindi era una donna che ha cercato sempre la sua libertà e secondo me l'ha anche ottenuta. Sembra che molte delle somme elargite in punto di morte da Giulia non raggiunsero mai i destinatari. Così come sembra che non sia stata esaudita la sua volontà di essere sepolta nel mausoleo di famiglia all'isola bisentina sul lago di Bolsena. Di certo la sua tumba non è mai stata trovata, anche se le spiegazioni possibili non mancano. Nella seconda metà del Cinquecento Alessandro Farnese, il gran cardinale, dispone la dimolizione della vecchia chiesa dei frati e la reddificazione di una nuova. Lì ricolloca l'antico sepolcro di famiglia di Ranuncio Farnese e le salme degli altri Farnese che nel frattempo erano stati lì sepolti vengono raccolte in semplici cassi di legno e velluto. Probabilmente, abbandonata poi l'isola anche dai stessi frati, le salme vengono dimenticate e vuoi per la deperibilità del contenitore, vuoi per probabilmente qualche atto di vandrismo che si sarà verificato, sono tutte scomparse. Un'altra possibile spiegazione sta nel fatto che la salma di Giulia, inizialmente tumulata all'isola bisentina, sia andata poi distrutta, non dal tempo, ma dagli uomini. C'è la testimonianza dell'allora auditore di Valentano, il quale, scrivendo al cardinale Farnese l'8 maggio 1588, mentre erano proprio in corso i lavori di abbattimento di una chiesa, dice che alcuni scellerati hanno in animo di gettare a terra, anzi nel lago, le sepolture della famiglia. E se invece Giulia, morta a Roma, da qui non si fosse mai spostata? Oltretutto offrendo al destino il destro per una curiosa coincidenza. A Roma, a pochi passi da Palazzo Farnese, dove molti storici collocano il luogo di morte di Giulia, c'è una chiesa intitolata San Girolamo della Carità, un luogo utile a capire cosa accadde subito dopo la morte della Venere papale. Sappiamo che Giulia Farnese era molto legata alla chiesa di San Girolamo, chiese infatti al Papa Giulio II il riconoscimento della confraternita di San Girolamo della Carità, lasciò dei legati a questa chiesa e morì circondata dai frati della Carità. Giulia muore nel marzo del 1524 e stando a quello che racconta il testamento di lei era nella camera della sua abitazione, così la definisce il notaio che scrive il testo, il rione Arenula, in vista della chiesa di San Girolamo. Sappiamo che Giulia possedeva un palazzo nei pressi della chiesa di San Girolamo, che era di suo marito Orsini e che lei cedette poi nel 1512 alla figlia Laura. Quindi io credo che è da escludere che Giulia morì a Palazzo Farnese nella residenza del fratello Alessandro. È quindi molto probabile che Giulia potesse essere sepolta nella chiesa di San Girolamo e non portata all'isola Bizantina anche perché dobbiamo considerare che in quell'epoca imperversava la testa a Roma e uscire da Roma e fare molti chilometri in una situazione particolare era molto rischioso. Quindi io credo che è possibile che Giulia sia stata sepolta nella chiesa che lei comunque tanto amava. All'indomani della morte l'ambasciatore di Venezia comunicò il fatto al doge. La sorella del cardinal Farnese Madonna Giulia, un tempo amante di Papa Alessandro VI, è morta. Trent'anni dopo la sua fuga da Roma e dalla corte di Papa Borgia, la figura di Giulia era ancora segnata da quella relazione scandalosa. E forse non è un caso ma uno scherzo del destino che a fine Ottocento le spoglie mortali di Alessandro VI siano state trasferite nella chiesa di Santa Maria di Monserrato a pochi metri da dove Giulia è morta e dove, forse, riposa segretamente in Eterno.